Raccolgo tantissime segnalazioni e cerco di renderle pubbliche proprio per stimolare l'attenzione dell'amministrazione su quella singola problematica, oltre al fatto che poi come consigliere comunale quella problematica cerco di affrontarla, di far sì che venga risolta o quantomeno affrontata seriamente nelle sedi comunali competenti e mi interessano molto quelle segnalazioni attinenti alla sicurezza. Ci troviamo infatti in via Medaglie d'Oro, ad angolo con via Umbria, guardate è un incrocio micidiale, pericoloso, soprattutto poi nelle ore in cui il traffico si congestiona sensibilmente alla luce della presenza delle scuole. Bene, da oltre un mese, guardate qui, i semafori sono non funzionanti, sono out. Guardate qui, le macchine passano, quindi vengono da via Medaglie d'Oro e ovviamente vanno a intersecarsi con quelle col traffico da via Umbria. Guardate, semaforo spento, lampeggiante fuori uso e semaforo lampeggiante fuori uso. Abbiamo fatto strike. Stessa cosa, guardate di fronte a me, nelle vicinanze proprio del supermercato, altro semaforo spento, insomma non funzionante, lampeggiante. È una situazione ormai che si è incancrenita da un mese a questa parte. Siamo ritornati allo stesso punto di partenza in cui mesi fa c'era quella problematica. Allora cosa aspetta l'assessore Ciraci, assessore alla polizia locale per intervenire? Cosa aspetta il comandante dei vigili, quindi il corpo di polizia locale per intervenire? Cosa dobbiamo aspettare? Una tragedia? Dobbiamo aspettare che qualcuno venga investito, dobbiamo aspettare che le macchine si scontrino tra di loro e le persone vadano a finire in ospedale? Perché qui ci sono persone, non solo i giovani, persone anziane che hanno problemi di diambulazione e in questo casino ci sono rischi gravissimi. E mentre guardavo i semafori non funzionanti, ho l'occhio clinico, guardate, le strisce pedonali completamente cancellate, completamente, non ci si degna di ritinteggiarle né qui e né lì. Vedete di fronte? Ma la situazione, mentre lì qualche traccia di vernice è rimasta, qui proprio vedete? Assolutamente scomparse. Non mi mettete nelle condizioni di prendere pennello e vernice e tinteggiarle, lo faccio io, poi multatemi, denunciatemi, non me ne strafotte un cazzo, perché qui è in ballo la sicurezza. Questa amministrazione butta 7 milioni e mezzo di euro per il 6GP e poi non si degna di far tinteggiare le strisce, ma quanto costano? E scusatemi, mentre stavo facendo questo servizio c'è un signore di fronte che ha da dirmi qualcosa. Dicono anche le persone, non si sentirà ovviamente la voce, ma un signore della zona, abitante qui, mi dice proprio il problema dei semafori. 20 giorni che non funziona, un mese? E le strisce pedonali cancellate? E marciapiedi che sono tutti da rifare? E marciapiedi tutti da rifare. Come vedete, lo dice la gente, a me piace il contatto diretto col cittadino, l'ho detto, sono un consigliere di strada, affronto sul campo i problemi, grazie a lei. Un'amministrazione assente. Questa città, l'ho detto, non è amministrata male, no, non è amministrata proprio, c'è un'assoluta assenza dell'amministrazione comunale, un'anarchia completa, un sindaco politicamente fantasma. Scusate, ma qualcuno lo vede in giro? Si vede in rarissime occasioni, come le apparizioni della Madonna. Grazie.